Disabili, sesso e affettività, sì alla figura dell'assistente. Il Consiglio regionale approva all'unanimità una risoluzione per chiedere al Governo centrale una proposta di legge. A Certaldo torna Boccaccesca. La 26esima edizione della rassegna enogastronomica si terrà dal 10 al 13 ottobre. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità con 35 voti a favore una risoluzione per l'istituzione della figura dell'assistente all'emotività, all'affettività e alla sessualità per persone disabili. La proposta di risoluzione impegna la Giunta ad attivarsi presso la conferenza delle Regioni per avviare un'azione interlocutoria con il Governo e arrivare a una proposta di legge. E nell'emore dell'approvazione della disciplina nazionale impegna la Giunta regionale a valutare ogni possibilità di intervento sulla materia. Sono davvero felice e orgoglioso che l'Assemblea legislativa tutta all'unanimità su proposta del collega Jacopo Melio abbia deciso di votare una risoluzione che pone grande attenzione al tema della sessualità, dell'affettività nei disabili con forme gravi. C'è una norma, una proposta che ferma da troppo tempo in Parlamento. Noi abbiamo la necessità di scuotere le coscienze e gli animi. Questa è una norma di civiltà. La Toscana è una terra che negli anni di queste battaglie è stata sempre promotrice. Io mi auguro davvero che noi facciamo la nostra parte mettendo in campo tutte le risposte che possiamo, ma che una norma che sia comune a tutte le ragazze e ragazzi disabili su questi temi a livello nazionale possa vedere finalmente la luce. E' una norma di civiltà questa? Sì, noi come Commissione avevamo avuto dal Consiglio l'indicazione di affrontare una mozione a prima firma Melio che affrontava appunto il tema della sessualità e dell'affettività delle persone con grave disabilità. E' stato un lavoro abbastanza intenso che ha coinvolto la Commissione in più sedute, abbiamo fatto audizioni, discussioni importanti alla presenza anche del consigliere Melio. e questo ci ha permesso di evidenziare come davvero si tratta di un tema sul quale c'è un velo di ipocrisia molto ampio che parte dall'idea che le persone disabili siano persone assessuate, che non hanno bisogno di una attività sessuale, erotica, di attività di affettività. E questo viene scaricato tutto sulle famiglie, sui genitori, sui caregiver che da soli si trovano a affrontare questo tema. Con questa risoluzione, abbiamo quella mozione, l'abbiamo fatta decadere e abbiamo fatto una risoluzione di Commissione, che per fortuna poi l'Aula ha approvato all'unanimità, noi diciamo una cosa importante, cioè che a livello nazionale con una legge e anche la Toscana inizi a fare un'azione che porti allo sviluppo di un assistente all'affettività e alla sessualità, che non è un sex worker, è una persona esperta, che sa come affrontare questi argomenti e può affiancare la persona con grave disabilità, le famiglie e caregiver e non lasciarli soli. È un grande servizio di civiltà e noi spediamo che dopo la risoluzione questa regione, oltre a porre il tema in conferenza Stato-Regione, possa velocemente dare il via all'elaborazione, alla messa in piedi di un servizio, di questa figura, che è una figura che certamente ha un compito importante che è quello di affrontare i temi e di non lasciare le famiglie caregiver da soli. La regione toscana oggi ha dato un grande segnale di unità su quello che è un tema fondamentale, il supporto all'emotività, all'affettività e alla sessualità per persone gravemente disabili e per le loro famiglie che per questo stesso sono abbandonate dalle istituzioni non sapendo come gestire quello che può diventare un vero e proprio problema serio quando non si hanno gli strumenti per una piena educazione ma anche una piena scoperta del proprio corpo, dei propri sentimenti, delle proprie emozioni e funzioni che sono assolutamente naturali ma che per molte persone ancora oggi sono precluse. Ci credo a rinnazziare soprattutto i consiglieri e le consiglieri di opposizione che hanno dimostrato di comprendere e sostenere questa risoluzione che appunto arrivando in Consiglio regionale da una mia mozione ha riformato come la riunione toscana terra di diritti e quindi diritti che non intenda mai lasciare indietro nessuno. Allora è un pochino più particolare la proposta fatta perché si parla della sessualità e dell'affettività. Sono due concetti che possono essere uniti ma possono anche essere intesi estremamente diametralmente opposti perché è ovvio che chi ti insegna la sessualità va bene, è facile, chi ti insegna l'affettività è altrettanto facile se te ne vuole di affetto ma cercare di capire l'affettività e farla, diciamo, insegnare l'affettività da parte di qualcuno che lo fa per lavoro prendendo del danaro, come è giusto che sia il suo lavoro diventa un po' problematico. Indubbiamente questa legge che parte da una mozione quindi è stata sviscerata approfonditamente è un qualche cosa di innovativo perché mette al centro un problema che finora in maniera ipocrita è sempre stato tenuto un pochino ai margini però adesso dobbiamo vedere come verrà tradotto in pratica perché la regione toscana è un paper work cioè riesce a scrivere tutto lo scrivibile ma poi a portare in pratica ben poco di quello che scrive Io voglio ringraziare il consigliere Emelio perché non è che ha portato all'attenzione e ha, come dire, scoperto un vaso di Pandora ha proprio alzato un velo cioè tutto quello che noi sappiamo ma che non abbiamo mai avuto di affrontare nelle aule il fatto vero è che noi non siamo ciò che appariamo ma siamo ciò che siamo siamo tutti uomini e donne siamo tutti carne e sangue siamo tutti persone pregne di sentimenti, di emotività e di necessità questa risoluzione è una risoluzione importante che porta nell'aula e devo dire recepita da tutti passata a un voto all'unanimità un tema che è importantissimo che è la questione dell'affettività, della sessualità anche di chi vive condizioni che non sono pari diciamo a quella normalità che noi tutti andiamo conoscendo e professando ogni giorno è una risoluzione importantissima spero che non resti solo carta ma che abbia un seguito vero perché è giusto affrontare questo tema ma soprattutto è giusto riuscire a dare delle risposte Torna anche quest'anno il tradizionale appuntamento con Boccaccesca giunta alla 26esima edizione la rassegna enogastronomica che si svolgerà a Certaldo dal 10 al 13 ottobre è stata presentata a Palazzo del Pegaso Boccaccesca è una di quelle iniziative che ormai da 26 anni fanno più bella la nostra regione Boccaccesca è un augurio, un invito a vivere un buon autunno da parte di tutta Certaldo è un po' la rappresentazione attraverso il cibo dell'identità culturale di un territorio è un lavoro portato avanti da tanti anni con impegno, passione e dedizione una di quelle iniziative che è cresciuta con il tempo e che già innovava 26 anni fa era qualcosa di unico, di diverso oggi ci sono tante iniziative che provano a replicare Boccaccesca ma la bellezza di Certaldo la sua capacità di sapere attirare turisti da tutto il mondo rende ancora più bella questa iniziativa buona Boccaccesca a tutti perché venire a Boccaccesca non solo e lo dico da padrone di casa e quindi mi si scuserà se faccio e comunque considero un panorama più ampio di Boccaccesca si viene a Boccaccesca senza altro perché c'è questa offerta enogastronomica però venire a Boccaccesca significa anche venire a Certaldo venire in un paese che è inquadrato, bellissimo di suo all'interno della Val d'Elsa che a mio avviso merita di essere valorizzata molto di più da un punto di vista turistico rispetto all'attuale valorizzazione tanto è vero uno dei miei punti cardine del programma è quello proprio di portare avanti un discorso di questo genere quindi il Comune di Certaldo sponsorizza Boccaccesca proprio perché Boccaccesca è un modo di valorizzazione patrimonio culturale e artistico del Comune Allora questa è la ventisesima esizione di Boccaccesca sull'onda del successo dello scorso anno cerchiamo di riproporre gli stand enogastronomici da tutta Italia arrivano e quindi saranno oltre 50 e quindi le eccellenze enogastronomiche della nostra regione e non solo Abbiamo sentito tanto gusto, tante eccellenze ma non solo No, 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 tante novità Io ormai da 26 anni faccio Boccaccesca perché sono la mamma fra un po' la nonna sinceramente e ora Boccaccesca è veramente si è rinnovata e questo mi fa un gran piacere perché il nuovo fa sempre piacere come diceva D'Alessio se il nuovo incontra la tradizione è vincente ecco io penso che Boccaccesca sia vincente proprio per tutto quello che ha la tradizione e il nuovo questo è lo aspettiamo proprio a vedere questo a riscontrare per vedere se lo percepite Cos'è questo nuovo? Se ce lo puoi accennare Sì, glielo dico volentieri Allora, il nuovo è la musica lo spettacolo per le strade quindi ogni visitatore potrà gioire non solo degli odori, dei sapori di tutto quello che è il cibo ma anche proprio la musica la vista quindi questo nuovo questo collegare il bello non solo del cibo e del vino ma anche con quello che è il spettacolo è il nuovo quindi questo connubio sicuramente sarà vincente Boccaccesca si rinnova nuovamente praticamente avremo quattro giorni nel nostro borgo una festa che coinvolge i cinque sensi perché Boccaccesca è la festa dei cinque sensi è la festa del gusto, dello sfatto del vedere, del sentire a Boccaccesca la tradizione, l'innovazione si fondono e danno vita a dei laboratori a degli arti, a dei saperi enogastronomici del territorio e non solo abbiamo l'esperienza dei nostri gemellaggi che verranno a presentare i loro prodotti ma anche le nostre realtà del locale che presenteranno i loro prodotti e le loro eccellenze Boccaccesca è questo Boccaccesca è il gusto è la passione, è vivere il borgo quattro giorni intensamente La festa per la Madonna del Rosario di Castiglion Fibocchi in provincia di Arezzo è stata presentata a Palazzo del Pegaso le iniziative sono partite questo sabato e si concluderanno lunedì con lo spettacolo pirotecnico Innanzitutto esprimo la mia soddisfazione che quest'anno abbiamo raddoppiato la visibilità sulle comune di Castiglion Fibocchi che sta portando avanti delle iniziative legate alla tradizione sicuramente ma che danno anche una proiezione di futuro non solo il carnevale dei figli di Bocco che per il comune è quanto mai importante ma quest'anno arriva anche una delle più belle feste di paese della provincia di Arezzo che è la festa della Madonna del Rosario che si articolerà in tre giornate fino ai fuochi d'artificio alle 22 di lunedì 7 vedrà in questi giorni una serie di eventi che meritano l'attenzione innanzitutto la presentazione di una pubblicazione di immagini Castiglion Fibocchi dei nostri nonni e dei nostri genitori che ha avuto il patrocinio del Consiglio regionale della Toscana il giorno a seguire la fiera del Bestiame che richiama l'attenzione su un tema quello dei nostri allevamenti che devono essere tutelati devono essere promossi devono essere sostenuti e questo lo diciamo coerentemente perché la regione toscana è vicina a questi allevatori e poi proseguirà con tutti gli stand gastronomici con tutte le iniziative belle che si svolgono nel borgo di Castiglion Fibocchi un borgo della bellezza unica e che ho il piacere di ospitare ancora una volta l'amministrazione comunale Festa della Madonna del Rosario una festa religiosa ma è la festa del nostro paese nel nostro borgo di Castiglion Fibocchi con grande piacere per la prima volta quest'anno siamo qui in Consiglio regionale grazie al Vicepresidente Marco Casucci che ci ha ospitato all'intero Consiglio per presentare le nostre iniziative siamo un piccolo borgo le difficoltà sono tante soprattutto nell'organizzare questo tipo di manifestazioni il ringraziamento principale dell'amministrazione va a tutte le associazioni tutti i volontari che sono coinvolti nella manifestazione saranno tre giorni importanti partiranno sabato sabato 5 con le prime iniziative con la presentazione di un libro che ha avuto anche ovviamente l'appoggio, il contributo e anche la prefazione del Presidente della Regione poi ci sarà la fiera classica di domenica la rievocazione dell'antica fiera del Bestiame all'interno del nostro comune e si concluderà la festa con il lunedì nel primo pomeriggio le corse, le corse ciclistiche che partiranno da Rondine Cittadella della Pace poi per finire con lo spettacolo pirotecnico della sera più curioso e più importante appunto per chi assessora le politiche giovanili quest'anno oltre alla tradizione come diceva il Sindaco quest'anno siamo l'unico comune in provincia di Arezzo che ha avuto accesso a un finanziamento del Ministero delle Politiche Familiari per un bando un progetto relativo all'educazione e la formazione dei giovani preadolescenti quindi fascia d'età 11-14 anni sono stati tutta l'estate in giro per i nostri boschi hanno usato i social e hanno costruito con operatori specializzati un mini film che presenteranno e riporteranno la nostra comunità domenica 6 ottobre per cui questa è una cosa molto importante perché ci ha aiutato soprattutto in quella fascia d'età un po' critica a collegare e diciamo così amalgamare questi ragazzi che d'estate ovviamente finite le scuole un po' si annoiano e potrebbero finire in strade ben diverse rispetto a quelle della caccia al tesoro nel bosco grazie a tutti Grazie a tutti